Professoressa, un'opinione sulla rappresentanza territoriale del Piemonte. La rappresentanza territoriale del Piemonte, immagino che lei voglia dire nel futuro scenario del Parlamento europeo, diciamo che il Piemonte esce da questa elezione europea con un grosso deficit da colmare. Gli europarlamentari direttamente eletti dal Piemonte sono molto pochi, alcuni sono alle prime esperienze, per cui sarà molto difficile costruire o ribadire un legame storico e consolidato che gli europarlamentari piemontesi a 360 gradi avevano con Bruxelles. Questo lo vedo come un limite perché l'Europa è importante a livello territoriale perché le relazioni con il territorio sono altrettanto importanti che quelle con gli stati e Piemonte era una regione che stava investendo molto in questo. Io mi auguro che non si interrompa questo flusso che sarà vitale e strategico per il territorio piemontese.